Siamo qui con Giorgio Terziani, visiting professor della George School di Brescia in disciplina del benessere, ma Giorgio è qui soprattutto in veste di imprenditore, sapete come in questa rubrica io intervisto persone di successo che abbiano portato un contributo a tutto quello che riguarda il settore, l'ambiente, il mondo, del benessere, della salute, dell'attività fisica etc. Nel suo caso lui si può dire che senz'altro è stato un grande portatore di salute con due fondamentali iniziative, la prima è stata quella di portare in Italia Cellfood, che è veramente un prodotto che ha una letteratura scientifica talmente esaustiva che diciamo che è al di là di qualsiasi critica di quelle che si fanno normalmente agli integratori, ma a me piacerebbe che ancora più che entrare nei dettagli tecnico-scientifici di questo prodotto, tu mi raccontassi dal punto di vista aneddotico come è nata questa tua passione per Cellfood, perché sei diventato l'uomo Cellfood? Beh grazie Massimo, in realtà tu sei un grande esempio per quello che hai fatto nella tua vita, a me è capitato che non sono un medico, naturalmente non sono un professionista del settore, ho probabilmente adesso qualcosina insomma ho imparato, diciamo che… Come minimo dovrebbero darti la laurea d'onore, mi dico sempre io. Tutto è nato tanti anni fa, perché io ho prestato per 14 anni della mia vita la marina militare, ho fatto due guerre, due volte il Golfo Persico, circa 165 mila miglia, quindi pensate sei volte il giro del mondo, non era tanto bello stare fuori tanti mesi, ritornare a casa, insomma tante cose che mi sono capitate, finché la motivazione era molto forte di cambiare la mia vita. Iniziai un lavoro part time e questo lavoro part time mi ha portato a capire che potevo fare qualcosa di meglio nella vita, potevo anche cambiare la mia vita. Pensate che il desiderio che ho lanciato è stato così forte che nel 97 mi feci un incidente mortale, molto grave, purtroppo persi la ragazza che era con me e feci 22 giorni di ospedale, un colpo di sonno di un amico che guidava la mia macchina, 15 metri di burrone e io mi salvai, decisi nell'ospedale se fossi uscito con le mie gambe, non sono uscito con le mie gambe perché poi due vertebrate, tre cervicali lesionati, emorragia interna, 22 giorni di ospedale, uscii con le stampelle e qualche tutor, però con la promessa che avevo preso per me stesso di cambiare la mia vita, feci la domanda di aspettativa e dal niente costruì l'azienda di cui adesso faccio parte, sono anche consulente, eccetera, eccetera. È successo che in casa del mio maestro di crescita e sviluppo personale conosco Selfood. Voi pensate, un atleta, io ero un atleta, adesso non so, ma ero un atleta come si deve, facevo judo a livello nazionale, campionati italiani, terzo al campionato interforza della marina militare, quindi insomma tiravo bene a judo e quindi dopo l'incidente non potevo più allenarmi, non correvo più. In casa del mio maestro di sviluppo e crescita personale conosco Selfood, lui è un italiano australiano, aveva i figli che studiava in America, mi dice guarda c'è questo prodotto che potrebbe aiutarti, ne parlano così bene, provarlo. Io lo provai dopo 7-15 giorni di purgatorio, vi dico purgatorio perché probabilmente con tutti i farmaci, l'intossicazione, poi non avevo le conoscenze su quello che era lo stile di vita sano, mangiare cibi, eccetera, migliori. Comunque questa depurazione, disintossicazione è andata avanti per 7-10-15 giorni. Ma dopo questi 15 giorni mi ritrovai nella mia scrivania con una lucidità mentale, un'energia che non avevo mai provato, forse avevo dimenticato. E allora decisi di acquistarne 5 prodotti con la mia carta di credito, era il 99, e di farlo conoscere, farlo provare a altre persone. E così è nato tutto, man mano che le persone utilizzavano il prodotto si sentivano meglio, lo volevano anche per i loro familiari, poi l'ho portata ai medici e non è stato semplice, perché portare un prodotto così tecnico ai medici senza un supporto scientifico non è stato facile. Però la sfida è stata immensa se ci pensate, partendo dal niente, perché vivevo in una casa di 40 metri quadri senza acqua calda e riscaldamento, la muffa a un metro, perché non volevo ritornare dai miei genitori, volevano cambiare la mia vita. E con questo sogno ho voluto assolutamente utilizzare questo strumento straordinario, questo mezzo che è il self-food, che permette veramente di cambiare la vita, soprattutto della salute delle cellule e delle persone e poter iniziare a divulgare un messaggio di speranza. E questo è stato l'anima di quello che ho sempre fatto nella mia vita per condividere un sogno. E questo sogno penso che oggi si stia realizzando. E quindi self-food è il tuo primo amore. Però poi adesso c'è un secondo amore, che non so se addirittura scalzerà self-food o addirittura... Eh, competono. Che è praticamente l'utilizzo di una metodologia particolarmente innovativa, perché si lega a concetti addirittura di medicina e fisica quantistica, che ovviamente non sono appunto digeribili per tutti, ma che in realtà ormai dovrebbero essere un patrimonio comune di tutti i medici. Tanto è vero che già esistono tecnologie diagnostiche che utilizzano questi concetti, ma vengono un po' così, non considerate di pertinenza di fisica quantistica, ma semplicemente così come strumenti diagnostici che ormai noi consideriamo di fatto, senza andare al fondo del perché delle cose. E questo strumento, che è uno strumento che permette di utilizzare il bulbo del capello e valutando le frequenze elettromagnetiche del bulbo del capello, è in grado di darti un sacco di indicazioni utili per poi impostare un tuo programma nutrizionale, di integrazione alimentare, di stili di vita. E anche qui voglio sempre, senza entrare nel merito tecnico di come funziona questo device, però anche qua volevo chiederti come sei arrivato a questo strumento e ormai sono cinque anni che lo stai portando avanti, ti volevo chiedere a questo punto, anche se senz'altro tu eri già sicuro all'inizio della sua efficacia e solidità, che tipo di feedback hai avuto e come ti sembra che stia andando questo device nel settore medicale dove tu fondamentalmente lo proponi. Ma guarda, grazie Massimo, perché quando io in tutti questi anni ho avuto maestri come te che mi hanno fatto capire l'importanza di uno stile di vita, della nutrizione, quando ho scoperto questo straordinario strumento a Città del Messico, con un congresso di medicina anti-aging tra l'altro, ho detto wow, questo è tutto quello che serve ai professionisti che mi hanno insegnato queste cose, perché probabilmente non hanno uno strumento così veloce che ti permette di un approccio clinico integrato, naturalmente a supporto di tutti gli altri sistemi, diagnosi, strumenti di diagnosi, analisi del sangue, che ti permette però di andare direttamente a fare gol e quindi a fare una medicina più personalizzata, individuale. E questo strumento straordinario oggi, pensate che quando l'ho conosciuto, l'ho portata in Italia e l'ho presentato a cinque persone, medici, professionisti, che potessero dare un parere, uno eri tu, e mi hanno detto è interessante, interessante, il professor Spaggiari, che è uno dei massimi esperti di medicina quantistica e risonanza, mi dice guarda Giorgio, funziona, è straordinario, è meraviglioso, perché va in risonanza con le frequenze del bulbo del capello e quindi le frequenze sono molto precise, o c'è o non c'è, quindi è inutile, neanche si parla di mettere in discussione, come dire, metto in discussione una radio, se c'è la frequenza la prendi, se non c'è, non la prendi, quindi non puoi mettere in discussione la radio che ti permette di ascoltare una frequenza. E oggi, pensate, da cinque persone, nel 2019 eravamo 85 professionisti in sala, oggi ho avuto una grande soddisfazione, massimo 300 persone in sala ad ascoltare un corso di formazione sull'uso della tecnologia S-Drive e sono veramente grato anche a te per la fiducia e per la grande professionalità che hai nel tuo lavoro e soprattutto per i tuoi pazienti. Grazie Giorgio, grazie per la tua presenza oggi, grazie per tutto quello che fai, per il tuo entusiasmo con il quale tu sei sempre alla ricerca di novità, novità che ovviamente richiedono poi dietro anche un discorso commerciale, ma io so benissimo che tu sei spinto della tua voglia di conoscere, di conoscenza e di portare veramente una cultura che possa far star meglio le persone. So quanto tu come mantra utilizzi addirittura la parola amore, che fondamentalmente è una parola che ha in se stessa racchiuso un potenziale energetico fondamentale, potentissimo e alla fine l'amore che tu hai per il tuo lavoro, per le persone con le quali condividi questa tua passione è veramente la tua forza e credo che sia quello che ti permette veramente di aggregare così tante figure di alto profilo professionale e anche richiamare tante persone con un pubblico così che diciamo che in congressi ormai quando tutti sono abituati a partecipare online non si vedeva da tanto tempo. Grazie Giorgio. Grazie, molta gratitudine.